Salve amici di youtube e benvenuti in questo nuovo video Allora prima di iniziare direvi una notizia grandiosa per voi soprattutto perché deve interessare a tutti quanti Sia voi iscritti sia per i futuri iscritti di questo mio canale Bayon Community Perché da questo video saprete che cosa devo fare, cioè che cosa ho fatto E quindi se li iscritti, cioè si iscrivono al mio canale, guardano quel video e sanno che ho fatto questa cosa nuova Però prima di iniziare volevo consigliarvi dei canali nuovi che voglio che vi iscriviate al loro canale E che vi aiutate tutti quanti a vicenda Allora il primo canale è La Freccia Blu Che io mi sono già iscritto, è un grande, fa video su, diciamo Fa dei video su giochi Su giochi che in pratica alcune volte ti deludono Nel senso che giochi che lui dice tipo Lost Ho fatto un video su Lost dove il telefilm era bellissimo Ma il gioco invece era tutt'altra cosa Quindi lui si incazza e si arrabbia perché dice Come? Perché su Lost ci sono delle cose che invece nel gioco non ci sono? Perché poi lui è nell'isola, prende la barca, va via Vede un aereo che si schianta Poi lui si risveglia, apre gli occhi così e riprovvige e di nuovo nell'isola Cioè proprio, anche io mi incazzerei con questi giochi qua Perché ti sei fatto 4 ore di gioco, 5 ore di gioco facendoti un culo così E poi ricominci tutto da capo Quindi ve lo consiglio che diciamo critica i giochi Che dovrebbero essere bellissimi invece alla fine sono una cagata Quindi, poi l'altro canale che vi consiglio è sempre The World of Games Che ve l'ho già consigliato in un altro video Che fa video su Minecraft, ha fatto una intro e Happy Wheels ha fatto Che devo farlo anch'io perché ci sono riuscito Quindi vedrete, dopo questo video vedrete una puntata di Happy Wheels Sperando che non zoomi quando sto schiacciando play Camtasia perché è un bastardo la Camtasia Se mi dite anche come togliere quella opzione perché non lo so Poi, Fantasy 7 Fantasy 7 in pratica Ha fatto video su tanti giochi tipo Minecraft Un po' tutti quanti facciamo video di Minecraft Fa dei tutorial Tipo come mettere la opzione fine in Minecraft Poi ha fatto altri video di una sua intro Poi l'ultimo video che ha caricato è come cambiare lo sfondo di Google Chrome Ve lo consiglio, iscrivetevi, ha già 22 iscritti ma fidatevi che è un grande Cioè io ho tutti iscritti, dico che siete dei grandi Perché per me tutti siete grandi Non ho uno che mi fa schifo Perché in verità faccio schifo io Fidatevi Cioè io sono uno che, anche se uno fa un video con la webcam Una webcam vecchissima dico che è bravo L'importante è quello che fa nel video Poi, l'altro canale è Cobretto2012 Ha fatto 5 video Una tra cui la sua intro Poi un gioco di More of War 3 Che se qualcuno mi può fare un tutorial nuovo di adesso Perché ho visto dei video vecchi di More of War 3 Prova a installarlo e mi da degli errori sul gioco Io faccio tutti i procedimenti Però l'ho già scaricato il gioco io L'unica cosa è che non... L'ho scaricato da internet con un torrent Quindi ho il CDA, CDB Però non mi funziona con i vecchi video Quindi non so come continuare Cioè installo il gioco e poi non so che cosa fare Mi da degli errori se metto delle patch o delle altre cose Quindi se qualcuno mi può dare una mano Tornando a questo discorso Cobretto2012 Ha fatto un video su... Credo che sia Guitar Hero Quello delle chitarre Non so come si pronuncia Non ho fatto sbaglio E' un video su S4 League S-World Rena PvE Ha fatto anche un gioco così Che io non lo conoscevo E' carino Anche se è un gioco con una grafica diciamo vecchia Sembra vecchia Perché la grafica non mi sembra una grafica nuova del 2012 Quindi ve lo consiglio Ha 31 iscritti ma merita tantissimo Quindi ve lo consiglio Per favore iscrivetevi Allora Sto parlando troppo Allora Poi De My Andrew Andrew V E' scritto Andrea con la V Anzi scusate Se non ce ne ho cazzate Allora E' scritto De My Tutto attaccato De My Andrev Che vuole Andrew Se non sbaglio Perché voglio essere corretto Per esempio Dico cazzate Ha fatto dei video su The Walking Dead Che ce l'ho io per il telefono Per l'iPhone Solo che fino all'episodio 1 io Quindi niente Guardate che se si vede nel video Perché non so mai sicuro che si veda Aspettate che sta caricando il gioco Guardate la webcam Vedi Ah io Veloce però Posso stare mezz'ora Vedete The Walking Dead Is Qualcosa Eccolo qua Avete capito che tanto non carica Quando carica ve lo faccio vedere Ha fatto i video di questo gioco Credo che lui lo sta facendo per il Non so se esiste per il computer Per la Playstation Ah eccolo qua The Walking Dead Ce l'ho per l'iPhone Ha fatto Skyrim Come vedere i film nella Playstation Io so anche la PS3 Ha fatto dei video con la macchina con GTA Quindi ve lo consiglio Iscrivetevi al suo canale E anche voi iscrivetevi agli altri Cioè non è che Io voglio che vi aiutate tutti quanti a vicenda Come faccio io con voi e voi con me Cioè non è che fate Dico iscrivetevi Poi dopo Gli altri miei utenti si iscrivono al vostro E voi non vi iscrivete a loro Cioè non mi sembra giusto Cioè voglio che ci aiutiamo tutti quanti Perché Grazie a questa nuova notizia Io Adesso voglio che Il più possibile Ci aiutiamo Tra di noi Devvirus Italia L'ho già detto Iscrivetevi anche al suo canale Ok adesso passiamo alla notizia buona Diciamo Che è per tutti quanti Anche per me ma anche per tutti quanti Ho chiuso il gioco Scusate ho chiuso il gioco di IP Wheels In internet Se io non lo apro adesso Mi frego Ah lo apro dopo ascolto Basta Allora Ho aperto un nuovo canale Proprio perché volevo avvisarvi L'avevo già detto in un video precedente Questo canale lo sto aprendo Proprio per dare la possibilità A tutti quanti di diventare famosi su YouTube Quindi Cosa consiste questo canale? Iniziamo dalle basi Allora la base è che Ognuno di voi può mandarmi un video Tramite un link che metterò in descrizione Lo metterò Farò anche un video Nel mio nuovo canale Vi spiegherò come potete Mandarmi i video vostri Prima di tutto Ve lo dico anche qua Così non è che dico Salve a tutti Ci vediamo nel prossimo episodio O poi ve lo dico nell'altro No ve lo dico qua Allora Prima di tutto Questo Il canale si chiama Community Assistance Vuol dire Quella comunità che vi assiste Nel senso che vi da una mano Volevo Volevo mettere il nome Che mi aveva dato Il mio amico Frank Se mi ricordo Me l'ha detto lui Aspettate che vada a leggere Sulla posta in arrivo Così dico una cazzata di nuovo No Master 99 Gamer Me l'aveva detto Scusa Ve l'ho consigliato prima Sono un coglione Volevo chiamarlo Youtuber Assistant Però ho paura Che magari Se si chiama Youtuber A parte che Come guardate Mi ha detto Che già esisteva Come Nick Quindi Ho guardato anche Su Youtube Ho cercato Questo canale Non esiste Però mi dice Che esiste Lasciate perdere Youtuber Assistant Poi ho paura Che magari Me lo blocchino Perché Youtube C'è un nome Di copyright Blah 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 Quindi non ho voluto Fare casino E non volevo Già chiuderlo Questo canale Quindi l'ho voluto Chiamare Community Assistant Che sarebbe uguale Tanto alla fine Tanto la community La community Non metto l'altra cuffia In pratica Vi iscrivete a questo canale Vi metto il link Sempre in descrizione E il link Dove potete Mandare i video I video vostri Fatti da voi Vi spiego però Le regole Cioè nel senso Che vi spiego Cosa Che video potete mettere In questo canale Perché non vorrei Che poi magari Mi arrivano segnalazioni Per aver messo Un video vostro Dove mi dicono Bloccato per copyright Eccetera eccetera Quindi I vostri video Sicuramente Metteremo Crederò Creo io Mi farò aiutare Perché io su Adobe After Effects E altri programmi E altri programmi di Adobe Non ne so fare Non ne so fare Io sono negatissimo Su quello A me lo dico la verità A me lo dico Che faccio schifo Volevo dire Allora Nove minuti Stiamo facendo Allora Perché voglio farlo Voglio dirvi Dettaglio per dettaglio Allora Il video Sarebbe meglio Che potete parlare Di qualsiasi cosa Che vi piace Qualsiasi cosa A parte film Musica Perché se no Ci bloccano il canale È un casino Lo sto facendo Proprio per voi Proprio anche Però Non mettendo cose Che blocchino il canale Se no Non avrebbe senso Film Meglio di no Perché Non è che non si può Però magari Uno Me lo blocca Dice Questo film È di Pirati dei Caraibi Ti ha segnalato Perché Anche se Viene parlato Da un utente Comunque Copri like Quindi Non voglio avere Questi casini Si possono fare Video dei giochi Se volete Video dei giochi O tutorial Qualsiasi cosa Comunque Che insegna O che aiuti Qualcuno Quello che Lo sta guardando Il video La qualità Se proprio Non riuscite A farle in HD Con Camtasia Potete farlo Con un altro metodo Non lo so Potete farlo Basta che Non ci metto Mezz'ora Per caricarlo Cioè Vabbè Non mezz'ora Noi già giriamo I video li carico E basta Che almeno L'audio Si capisca Che non ci siano Tipo rumori Di come faccio Io nei miei video Scusatemi I miei video Ma è la webcam Cioè questo qui Il computer Quando va con un gioco Fa il rumore Che sta riscaldando Quindi è solo per quello Ma non è perché Non faccio bei video Non è colpa dell'audio Della webcam È proprio il computer Che va Si scalda subito Ed è un vaio Quindi lasciate perdere Domunque Tornando al discorso Si possono caricare video Posso caricare i video vostri Senza problemi Adesso devo anche mettere Una background Un avatar E in pratica È in pratica Una intro Anche una intro Per voi Proprio per Quando volete Mandare un video vostro Vi metterò in descrizione Il link Della intro Dovete scaricare quella E mettere quella Così a meno Non facciamo casino Poi io metterò in descrizione Il vostro canale Principale Con la descrizione Tutto quanto E voi E la gente Andrà a guardare questo video E sarete più famosi Detto questo Non c'è altro da dire Potete fare i giochi tutorial Gameplay Quello che volete Insomma Basta che comunque Rispetti il copyright Non ci siano Casini Cosa devo dire Altro A parte il link In descrizione Del canale Il link Dove potete Mandare il modulo Del vostro video Ah si Cerco Collaboratori Nel senso Gente che mi può dare Anche una mano A fare tutto Diciamo Perché da solo Io non ci riesco Cioè vabbè Ci riesco Ma Nei miei orari Cioè Se qualcuno C'è Non so Da certi orari Della giornata Che può controllare Certi volte Il canale E può aiutarmi Metterò in basso a destra I collaboratori E poi In descrizione Metterò Soltanto I vostri canali Perché se Ho guardato Come sempre Che in fondo a destra Non può mettere Più di 25-30 canali Quindi Quindi raga Non vi posso mettere Tutti quanti In descrizione In basso a destra Quindi Va bene Qualsiasi video Potete fare Potete Bizzarrirvi Come si vuol dire Soltanto che Rispettando sempre Le regole Del canale Perché se no Passo casino Cioè casino Nel senso che Coprirai Che cose varie Mi mandano segnalazioni Che non so Un bimbo minca Mi manda una segnalazione Con scritto Tu hai fatto questo video E mi rompe i boglioni Quindi Detto questo Farò un video Dove spiegherò Anche lì Nel canale nuovo Il canale nuovo Nel senso che È per voi Non caricherò Video io Sicuramente Ma uno Ne caricherò Solo per dirgli Come fare Come mandare un video Poi io caricherò Sempre il video Nel mio canale Cioè questo qui Lo so Apriamo solo per voi Lo controllerò Con Mozilla Firefox E con l'altro Uso il mio Chrome Google Chrome Quindi Per questo video È tutto Un saluto Da Megamister Oro Ciao 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 Ciao